La decisione di Moody's di questa mattina è di una gravità inaudita. C'è la necessità oggi di rilanciare l'idea di un'agenzia di rating europea. Ieri le agenzie di rating erano distratte. Oggi rischiano di essere parte di un disegno criminale anti-europeo e anti-italiano. E' una vergogna che in presenza di nessun elemento nuovo, salvo il deterioramento delle situazioni economiche, e questo vale per tutti i paesi del mondo e per l'Europa, oggi ci sia il declassamento delle nostre banche. E' un attentato all'economia di questo paese e noi riteniamo che la perdita di credibilità delle agenzie di rating da oggi sia totale. Ecco perché è importante avanzare al più presto e passare dalle parole ai fatti la proposta di un'agenzia di rating europea.